L'avanzata su Mossul, la capitale dell'ISIS in Iraq, si fa decisa. Dopo giorni di divisioni, ora l'Atenaglia sembra stringersi con forza sulla città, maggioranza sunnita nel nord dell'Iraq. Mentre la coalizione internazionale apriva il cammino con decine di raid aerei, di cui 25 sul solo villaggio di Telskouf, i Peshmerg avanzavano su tutto il fronte nord orientale, mentre le truppe irachene da sud conquistavano la località strategica di Bartella. Bartella era considerata una linea chiave di difesa contro l'avanzata delle nostre truppe verso Mossul e quindi ora possiamo annunciare alla gente di Mossul che stiamo per arrivare, dice il capo delle forze speciali irachene, secondo il quale a Mossul sarebbero trincerati 6.000 jihadisti. Il timore è però che l'ISIS stia già da tempo riposizionandosi altrove, che abbia lasciato solo elementi rallentatori a difesa di Mossul data per Persa. Dalla zona dei combattimenti sono fuggite per ora oltre 5.000 persone che raccontano la vita sotto il controllo della milizia islamica. Non potevamo andare da nessuna parte, venivamo solo autorizzati ad andare in un posto preciso e poi tornare, le donne non possono uscire se non sono coperte, racconta un rifugiato nel campo di Debka. La Croce Rossa internazionale ritiene che dalla zona di Mossul i combattimenti metteranno in fuga circa 800.000 persone per le quali si stanno preparando i campi di accoglienza, la città aveva 2 milioni e mezzo di abitanti prima del conflitto.